Come avrai visto qua, Gekko? È proprio in gran forma, sei già trasformata addirittura Beh, ma forse siamo noi che siamo un po' in ritardo Forse è meglio se ci andiamo a preparare anche noi, cosa dici tu? Beh sì, dai, forse ha ragione lui Ok, dai, allora scendiamo Oh, però scendiamo dallo scivolo È certo che scendiamo dallo scivolo, dai, vieni Ehi, Gekko, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene, sto facendo un po' di esercizi Ok, va bene, noi ci andiamo a preparare allora Dai, Connor, andiamo Arrivo Ehi là, amici, ci siete? Siamo noi, i Paw Patrol Gekko, Gatto Boy, Buffetta Oh, beh, guarda, i nostri amici, i Paw Patrol Andiamo ad aprirli subito Oh, sì, hai ragione, Maya, andiamo Ehi, ciao, amici Oh, ciao ragazzi, ci potete aprire? Ma certo che vi apriamo Però attenzione, perché quando si aprono le porte È un po' pericoloso Apertura cancello Oh, cosa avevo detto? Povero Rubble, hai fatto un salto Ah, mamma mia, a saperlo Dai ragazzi, entrate Mamma mia, che salto che hai fatto a Rubble Che ridere È vero Niente male questo cancello automatico Avete visto ragazzi? Mica scherziamo noi Chiusura cancello automatico Wow, ma che figata Mi piace tantissimo questo cancello Voglio anche io nel nostro quartiere generale È troppo figo Ehi no, questa è un'invenzione tutta nostra Dai ragazzi Aspettateci un attimo qua Che io e Maya ci andiamo a preparare Va bene? Ah, certo, certo Andate pure Noi vi aspettiamo qui Maya, sei pronta? Sì, Connor, lo sono Ok, allora entriamo Ok, pronti Trasformazione Eccoci qua Si sta molto meglio nei panni di Guffetta Sai, Gatto Boy Oh, però io non riesco mai ad uscire Oh, da qui Ah, sì, hai ragione Guffetta Così ci sentiamo molto più sicuri Ok, torniamo dai nostri amici Oh, ma ci sono i Paw Patrol Oh, andiamo subito a salutarli Ehi, ciao ragazzi Ma cosa ci fate qui? Che bella sorpresa Ciao Gekko Vi siamo venuti a trovare Avevamo un buco di 5 minuti Abbiamo detto Dai, andiamo a salutare i nostri super pigiamini Wow, come siete carini Ma gli altri due dove sono finiti? Siamo qui, siamo qui Arriviamo Eccoci Scusate, ci abbiamo messo un po' di più del previsto Ah, eccovi Ottimo Oh no, il telefono Sarà sicuramente Ryder Dobbiamo rispondere subito Sì, pronto Ciao Ryder Ciao Chase Bisogna che venite assolutamente qui Abbiamo bisogno di rinforzi Io con gli altri non bastiamo Dai, muovetevi Venite che... E cambiatevi Perché c'è un'emergenza Più siamo meglio è Ah, ok Va bene, va bene Ok Ehm... Dai, allora ci cambiamo Ci cambiamo e arriviamo subito Ciao Ryder Ehi Chase, cos'è successo? Cosa voleva Ryder? Oh, ha detto che ci dobbiamo assolutamente andare a trasformare Che hanno bisogno d'aiuto Ha detto Qui siamo meglio è Ah, ma allora potremmo venire anche noi con voi Ah, sì, sì Sarebbe un'ottima idea Oh, che bello, che bello Io mi sento in formissima Oh, è solo che adesso Come facciamo a trasformarci? Oh Oh, un'idea Perché non ho usato le nostre cabine di trasformazione? Oh, ma dici che funzionerà? Beh, possiamo provare, no? Oh, sì Voglio provare, voglio provare Oh, che bello Il set di trasformazione dei super pigiamini Dai, allora andiamo Non perdiamo tempo Oh, wow Ho sempre sognato di entrarli dentro Oh, mamma mia Chi lo dici? Che emozione Oh, non vedo l'ora Io scelgo questo qui E io scelgo questo rosso Va bene Io aspetterò Dai ragazzi Entrate Ok, siamo pronti Potete chiudere Ok Trasformazione Oh, mamma mia Speriamo che funziona Ma sì che funziona Non ti preoccupare Ok Al mio via Uno, due, tre Trasformazione Wow Mamma mia Ma siete bellissimi Oh, grazie Guffetta Wow Ma anche voi siete dei super eroi Belli Oh, Rabel Dai, tocca a te Sono proprio curioso di vedere come esci fuori Ok Vado Vado anch'io Scelgo anch'io Quello di Guffetta Ecco Sono pronto Ok Sono pronto Potete dare il via Ok Trasformazione Oh, mamma mia Che emozione Ok Al mio tre Uno, due, tre Trasformazione Eccomi Wow È troppo figo Il vostro set di trasformazione Mi piace da morire Wow Ma quanto siete belli Ma siete stupendi Con il vostro mantello Oh, via ragazzi Non c'è tempo da perdere Andiamo Ma Ma ce la possiamo fare Ma sì che ce la possiamo fare Ok ragazzi Si parte Yuhu Andiamo ragazzi Via Yuhu Ecco ragazzi Sono arrivati Su scendiamo Oh, ma guardate Ci sono anche i super pigiamini Oh, ragazzi Via Andiamo Che bello Ragazzi Arriviamo Yuhu Eccoci Aspettatemi Ragazzi Yuhu Via Si parte Oh, e ciao Super pigiamini Siete venuti anche vai Ad aiutarci? Eh sì Se possiamo aiutare Noi veniamo molto volentieri Ma certo Più siamo Meglio è Però Come facciamo ad entrare tutti dentro I vostri veicoli? Mmm Mi sa che non ci stiamo Oh, però Voi dentro il nostro fuoristrada Ci state Cosa ne dite? Andiamo tutti nel fuoristrada Ci stiamo tutti Oh, sì Un'ottima idea Perfetto Ok Allora non vi muovete Lo vado a prendere Wow, che figata Stiamo tutti dentro il fuoristrada Dei Paw Patrol Che bello ragazzi Dai scendete Oh, sì Hai ragione Via Scendiamo ragazzi Eccomi ragazzi Dai Tutti a bordo Non c'è tempo da perdere Salite Dai ragazzi Andiamo Yuhu Oh, sì Arriviamo Yuhu Dai super pigiamini Eccoci qua Eccomi Arrivo anch'io Oh, scusa Guffetta Oh Niente 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 Gekko Io ti sto lontano Mi metto di qua Dai ragazzi Muovetevi Dobbiamo andare Ok Raider Ci siamo tutti Puoi andare Perfetto Via ragazzi Si partai Wuhuuu Wuhuuu Uuuu Uuuu